grande msi questo volevo dire quindi la capacità di andare un po fuori dal proprio no perché c'è un po la tendenza di giudicare i film in modo molto personale invece secondo me bisogna avere la capacità di di entrare nell'ottica ok quindi io coloro lo faccio regolarmente perché a me non è che piacciono tutti i film fatti però vedete che di tanti film parlo degli aspetti positivi e come per esempio del film appena uscito in dvd della spaghetti horror che spookies che è un film che fondamentalmente è una trashata ed è un film del cazzo ok ma visto sotto un'altra ottica per me un capolavoro da avere perché c'è una quantità di effetti speciali fatti benissimo e atmosfere fighissime tantissime eccitazioni del cinema antecedente horror insomma antecedente al film stesso quindi riesci se in questo modo riesce a recensire e essere neutrale e utile anche agli altri perché sta agli altri capire che quel film lì fa per loro meno ok se io ho detto per esempio che midsommar è un film della madonna e tra i miei film preferiti degli ultimi anni non significa che se poi dico a spookies è un cult assoluto va va visto assolutamente se siete colazione compratelo non significa che io li metta sullo stesso piano significa che quando io recensisco spookies entro nell'ottica del saper valutare quelli che sono gli aspetti positivi di quel film c'è tanto cinema in spookies perché è proprio e mi ha ricordato il cinema degli anni della universal il cinema dove si cerca di impressionare il pubblico con effetti speciali no quindi i vari frankenstein dracula l'uomo lupo quindi nebbia mostri pipistrelli ecco spookies è così spookies è quello negli anni 80 ma vagonate vagonate di mostri e quindi non posso che non posso non apprezzare un film del genere poi ovvio è la storia è una minchiata galattica per tra l'altro anche molto stereotipata e fa anche abbastanza ridere ma fa proprio ridere cioè quindi è fondamentalmente è un film trash ma figo conferrami se dal film sta cosa si nota non so se sapevi il regista del film si levò di tono dopo metà e il film è stato completato da un altro praticamente ha creato il film appiccicando e girando allora allora questo mi fa scoprire che no te lo confermo sì 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 scusa mi stavo confondendo te lo confermo e ti dico che lo questa questo fattore cioè non te lo confermo così è quasi così l'ho inserito nella recensione perché è fondamentale ecco questo è un punto vedi che stiamo entrando in argomentazioni interessanti questo è un punto fondamentale per criticare un film e apprezzarne il valore allora la vera storia è questa l'ho messa anche nella recensione magari domani la pubblico la vera storia è questa che il film è stato girato nel 1984 da due registi che hanno non hanno finito il film non mi ricordo per quale ragioni ma non credo perché siano perché andato sono andati via ma per questioni burocratiche quindi non l'hanno finito e dopo due anni è arrivato un montatore che lo arriva lo ha montato tutto e ha girato delle scene in più questa cosa ha generato chiaramente un come si dice una un rimischione della storia tant'è che la storia è fuori di testa è abbastanza insensata in alcuni punti infatti quello che dici tu è appunto che diciamo appiccicato appiccicato il termine si ricorda richiama molto quello che poi il risultato finale cioè un po' una roba ti lascia un po così però se tu lo sai ne carpisci anche il fascino cioè il fascino di un film che era morto voi non avete idea ragazzi di quanti perché ci dovete pensare a queste cose di quanti film sono rimasti delle idee quanti sono rimasti del girato iniziato e mai finito cioè è pieno zeppo di film che non sono mai stati fatti cioè fatti ma mai montati mai finiti perché non c'erano i mezzi e non c'era più nessuno che li ha presi ci credeva e nessuno li ha finiti quindi questo è uno di tanti film che si è salvato che si è salvato dall'incognito dall'oblio diciamo infatti io nella mia recensione lo dico si è salvato dall'oblio perché potremmo non potevamo non vederlo mai quindi questo montatore è una specie di di santo perché comunque nel suo portare fuori e far risorgere come uno zombie questo film gli ha dato anche quel tocco di bizzarro che che gli fa bene insomma che gli fa bene perché il film è bizzarro e poi soprattutto ragazzi è fondamentalmente una horror comedy e si capirà da diversi aspetti che che vedrete quella quindi grandissimo film è molto interessante questa cosa del dello scoprire come si è arrivati a un film il retroscena sono fondamentali oggi ho pubblicato un meme che c'entra molto con questa storia qua nel senso come nascono le cose no slide indoors diciamo cioè se ci devono essere una serie di coincidenze no allora c'è questo meme del di jack torrance che davanti al tizio che gli sta offrendo il lavoro come custode dell'albergo gli dice allora jack torrance accetta la proposta di insomma la nostra proposta di fare il custode lui dice no e subito dopo si vedono i titoli di coda come per dire se jack torrance avesse detto no è una specie di battuta umorismo inglese quasi di freddura quindi dice no e fin finisce non c'è più storia quindi sono i titoli di coda è molto intrigante come come tipo di umorismo e mi ricordo un po questo mi ricordo un po questa situazione cioè le certi film la diciamo il la genesi di certi film è un film di per sé che è un film di per sé